Abbiamo i cavalli che vanno dietro le ali della macchina, un po' di scosta, Ruen Peste, TFT, gli altri cinque sono perfettamente apparegliati, chiusura delle ali, lo scatto di Ramon Lewis, deve scavalcare quelli all'interno e guardarsi contemporaneamente da Raindo Glaumar che poi si apre di galoppo, si è ritratto Rachmaninov Bigi, rientrano sia Redi Rodi che Rosita B. E vanno in lotta su Ramon Lewis che non troverà posto in corda nelle primissime posizioni, lo scatto in 13-7 per lottare la testa della corsa, poi Redi Rodi ha un accenno di rottura, lo riprende con grandissime mani Loris Ferro e rimane di fuori Ramon Lewis. Ha sfondato intanto Rosita B e Rachmaninov Bigi è terzo in corda, 29-7 la prima frazione, scivola in fondo al trappello Andrea Farolfi perché posto allo steccato non c'è, l'ultima posizione l'ha presa Ruen Peste. Adesso proverà a risalire se l'allievo di Farolfi tornerà in avanti, netto il rallentamento di Mauro Gesuzzi al comando, 45 per i 600, vuole dire fare 15 molto abbondanti per la retta delle tribune. C'è sempre Redi Rodi nella scena del battistrada, il quintetto all'avanguardia, il quintetto rimasto in corsa perché è stato squalificato Ryan Doglaumar, procede con le stesse posizioni anche a finire la curva di destra. Un quarto in 33 addirittura abbondanti per Rosita B che si tiene tutto per il finale, chilometro in totale controllo da parte del battistrada, 18 scarsi ma non molto di meno. Le pariglie sono queste, Ramon Luis e Ruen Peste di fuori, all'interno Redi Rodi e Rachmaninovvigi. Non c'è andatura nemmeno all'ultima curva, gruppo compattissimo Rosita B che sta portando a spasso la compagnia, 32-6 la frazione, 800 intermedi in 1-6 scarsi. E si va così all'ultima curva dove cala il numero 1 e poi galoppa, Redi Rodi, così va in corda Ramon Luis e c'è lo scatto di Ruen Peste ma intanto riallunga ovviamente Rosita B richiesta un'ultima curva in 15 poi allo strappone conclusivo, a cento dal palo, Frustino girato all'indietro, Rosita B si allontana, Ruen Peste batte Ramon Luis, 29-4 a chiudere, tempo di 1-18 forse un pelino meno ma comunque si è andati piano, condotta utilitaristica ma Rosita B la porta a casa, vince parecchio bene con una certa sicurezza l'allieva di Mauro Ivesuzzi con il training di Edwin Lagas numericamente 3-6-4, il probabile e ufficioso arrivo del premio Biselli Formaggi.